Si parla di emergenza rifiuti in Abruzzo, l'Associazione Ambiente e Vita oggi in conferenza stampa ha parlato proprio di queste problematiche che riguardano la nostra regione. Perché emergenza rifiuti in Abruzzo? Intanto c'è stata una programmazione del tutto sbagliata, qui non si è puntato sull'economia circolare, si sta perpetuando un sistema diciamo arcaico. Per quello che riguarda il conferimento dei rifiuti bisognava guardare a bene altre cose. Fatto questa premessa è chiaro che questo problema è di gran lunga incrementato dai rifiuti che vengono da Roma e che sono stati recentemente erogati fino alla fine dell'anno. Questo determinerà una diminuzione delle possibilità di conferimento delle discariche, un aumento dei costi, una difficoltà per le imprese, un aumento che poi andrà a ricadere sulle tasse dei cittadini. Una cosa davvero drammatica. Noi siamo veramente sconcertati in un contesto di marasma istituzionale di questa regione con cui non si sa neanche con chi parlare. E quale secondo voi poteva essere la soluzione e potrebbe essere la soluzione per far sì che questa emergenza finisca? Beh intanto prendere i rifiuti da Roma è un errore. Non ce lo potevamo permettere, è inutile fare queste cose che poi magari finiscono per dare dei vantaggi a pochi e svantaggi a tantissimi. In più è necessario da subito mettere mano alla programmazione in questa materia come in altri, andare sull'economia circolare in modo diciamo spedito. E però questo si può fare se c'è un governo regionale in grado di programmare, cosa che oggi purtroppo non c'è. E spero che questa situazione finisca al più presto perché è impossibile portare avanti queste tematiche in regioni governate in queste situazioni. A noi quello che ci interessa è che si faccia un programma serio, non solo per i rifiuti, magari per i fiumi, per tutta una serie di cose che in Abruzzo non vanno, che in questi anni sono peggiorate e che purtroppo non trovano soluzione.